Bentimente Camillo, passiamo la parola adesso a Camillo D'Alessandro, sottosegretario della presenza del Consiglio. Buongiorno a tutti, grazie al Sindaco, io vengo da un piccolo paese e so bene, in quel piccolo paese sono stato consigliere comunale di maggioranza e di minoranza, so bene che cosa significa e quanto sia nabile la differenza tra maggioranza e minoranza, quanto poi ci si occupa delle questioni di una piccola comunità, a un certo punto scatta la squadra e il candidato sindaco che non ha avuto la fortuna dei consensi con il suo gesto e con le sue parole dimostra esattamente quello che sto sostenendo, l'idea che una comunità piccola sia unita a un certo punto dopo la legittima battaglia democratica politica elettorale, a un certo punto sulle grandi questioni da un filo conduttore che è l'amore che lega e che ci lega le piccole comunità che ci fa stare qui, voi più di altri, vedo dei giovani, il fatto di stare in una comunità, in una zona interna, con tutte le difficoltà che ne derivano, le difficoltà degli spostamenti, le difficoltà di accedere ai diritti, sono questioni che dovrebbero e che stanno a mio giudice diventando agenda prioritaria del governo regionale, che si rende conto che oltre il 40% del territorio regionale è fatto di zone interne e in questo 40% del territorio regionale ci sono comunità, ci sono scuole, ci sono bambini che hanno gli stessi diritti o che dovrebbero averlo, ci sono difficoltà di mobilità. Con Claudio, col sindaco, da sempre battagliero come lo conoscete sulle questioni, sui temi, in una linea di conduzione che consentitemi parte da un vostro illustro concittadino che vi ha orato sia alla guida del comune sia alla guida della provincia Manfredi Fulzinelli, noi abbiamo ripreso nella delibera di giunta regionale che ha stabilito quali sono le priorità su cui certamente la regione investirà soldi e risorse e la famosa guardia Grele Casoli, la vicina Prudina, che è diventata priorità infrastrutturale per quanto riguarda il fabbisogno di infrastrutture di cui la regione al gruppo si vuole dotare. È scritto nello subianco, è scritto sulla delibera, lo abbiamo fatto perché crediamo che su tutti i territori noi dobbiamo dire ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Per la regione Albruzzo l'AS81, la vicina Prudina, il collegamento strategico che significa anche collegare voi, è una priorità regionale. Per le deleghe affidatevi, noi stiamo lavorando ad una delicata fase di riorganizzazione del trasporto pubblico locale che non riguarda solo il fatto che abbiamo realizzato la società unica dei trasporti che è di per sé una grande conquista. Ma a fianco alla realizzazione della società grande e unica di trasporti c'è adesso il lavoro della riorganizzazione del servizio del trasporto pubblico locale che in queste zone soprattutto al pari del diritto alla salute è il diritto fondamentale perché ne vale l'isolamento. Lì con il diritto alla salute, con il 118 qui di salvi la vita, con il diritto alla pubblicità hai la vita, hai il diritto la vita a lavorare, a impegnarti, a poter partire da qui per andare altrove e poterci ritornare. Noi abbiamo questo progetto in mente, poi tra qualche giorno, non appena conclusa la società unica dei trasporti, con i sindaci del territorio, ma anche con le associazioni, con i giovani voglio iniziare a ragionare su come riorganizzare il trasporto pubblico locale. La mia idea, l'idea del governo regionale è questa, noi vorremmo fare in modo che tutte queste comunità qui e altrove vengano prese in carico e poi portate ai cosiddetti punti di rottura, in questo caso Lanciano, in modo tale che da Lanciano col treno tu puoi raggiungere ovunque la destinazione che vuoi raggiungere. Ciò significa eliminare doppioni, eliminare autobus che viaggiano vuote, ma una specie di navette che continuano, girano in questi territori e che ti portano in carico del punto di rottura che può essere Lanciano per quest'area, per quanto riguarda la nostra area, l'Ortonese può essere Ortona, Sulmona per quanto riguarda l'Ortonese, in modo tale che ci sono vettori che girano in continuazione col territorio raggiungere i punti di rottura per portarci ovunque. Altro progetto è il quarto lotto del collegamento ferroviare con la Castel di Sacco, Castel di Sangoro, un progetto pronto, rimane l'ultimo lotto, cioè il Presidente della Sanitana che è venuto qui per un altro motivo, del quale voglio parlare, perché questo ci consentirebbe col collegamento lanciato da Castel di Sangoro, ne manca, ripeto, l'ultimo lotto per una montagna di 6-7 milioni a euro, ma se ci dovessimo riuscire, noi abbiamo offerto a tutte le zone interne un collegamento con tutto il resto del Paese, perché lì si alzi, un giovane non necessariamente per studiare entro all'università deve preoccuparsi di avere la casa all'università, con qualche sacrificio, con l'uso del treno potrà andare e tornare anche dalle nostre zone affinità. E poi c'è la questione dell'impianto di risalimento. Io non intendo, diciamo, fare in modo che alla conclusione del mandato di Claudio questo problema non sia risolto. Vorremmo che durante questi anni questo problema sia definitivamente risolto. Sul come vedremo insieme. C'è un problema di risorse, ma c'è anche un problema di gestione successiva. Le due cose devono camminare assolutamente insieme, dobbiamo, cioè, mentre lavoriamo a trovare risorse, io credo che non sia un problema quello. Il problema è il giorno dopo, cioè come si mantiene un impianto la volta che sono state dentro la terra, perché noi non possiamo fare la cosa e il giorno dopo chiudere la cosa. Noi dobbiamo lavorare e per farlo chiaro, non basta, la comunità di Parano. Questo è un progetto che riguarda tutti, che mette a sistema le grotte, che mette a sistema il nostro sistema turistico, del quale, come sapete, per Dere che vi sto occupando, avendo che il Presidente ha segnato oltre il turismo, oltre il trasporto, anche il turismo e i grandi eventi. Io vi posso garantire in conclusione che stiamo cercando, con difficoltà, perché il lavoro precedente è stato complicato, cioè non ci sei mai più di tanto creduto a questa parola magica del turismo, cioè come capacità di diventare industria, di diventare economia e occupazione, se non per qualcuno che se ne occupa qui e l'altro. Ecco, all'Expo, a Milano, noi stiamo dimostrando che questa regione non solo incuriosisce, ma una volta conosciuta, l'immediata reazione è come ci si fa a arrivare in abuso, perché esiste nella percezione dei flussi turistici nuovi nel mondo che vogliono non più le magnificenze delle grandezze, ma il piccolo, il curato, la cultura del limite, la potenza, della bellezza che sono poi dei dell'Expo, scoprire una regione ancora conservata, tenuta, mantenuta, con tutte le difficoltà che abbiamo, però diventa il target, l'obiettivo, la destinazione potenziale. Io credo che questo lavoro possa essere fatto innanzitutto con le zone interne, perché non vi avranno l'idea e concludo che zone interne e costa devono essere sempre traumaticamente divise e scollegate. Non è possibile una regione anche così vicina, sapete che stiamo raccontando in Milano la cosa che più percepisce, una cosa che noi abbiamo più scontata, ma che il mondo non lo sa, l'immediata stratigrafia della nostra regione, dal mare alla montagna con una velocità incredibile. Quando lo scoprono, anche con i video, e capiscono che nella mailetta, il giorno in cui noi abbiamo inaugurato Casablusso, la mailetta stavano sciando la mattina e poi sono andate a cena sul Trabucco, questo è un esempio classico, vedendolo anche il mare, quando si sono accorti della nostra immediata stratigrafia e che quindi hanno tutto a portare di mano, inizia a incuriosire anche gli operatori toristi. Per cui non è vero che tra costa e interno ci debba essere sempre la guerra delle distanze, io credo che finalmente con le infrastrutture di collegamento che poi saranno quelle, noi possiamo dare risposta a questo grande macino. Chiaramente una volta che i cittadini di tu hai garantito nelle zone più interne il diritto a salvarsi la vita, che poi segui il diritto alla cura, perché ti puoi curare comunque, ma intanto ti devi salvare la vita, e questo è il lavoro che sta facendo il nostro assessore Silvio Polucci, e dall'altro invece il diritto agli spostamenti, io credo che queste zone possano iniziare a risolvere perché forse qualche giovane ha un maggiore interesse, una maggiore segnalità, anche a far nascere il proprio figlio qui, o a una zona ancora più interna. C'è un progetto buono. Sì, tanto è vero, e in conclusione volevo un po' dire questo, che siete stati così abituati a lavorare insieme, che è un patrimonio questo, anche in maggio tra le varie comunità non sempre con le stesse identità di vedute, però con la capacità di lavorare insieme qui più che in ogni altra parte d'Ambruzzo. Tant'è vero che noi siamo riusciti, come la Regione Abruzzo, con l'assessore Polucci, il Presidente, e con un lavoro di sponda, a cui ci ha aiutato anche molto i sindaci delle comunità, e Tonino innaurato, in particolare anche il delegato a seguirci, con la provincia, avendo fatto secondo me questa scelta molto intelligente di un Vice Presidente delle zone interne, che quindi ha preso con mano l'idea delle priorità anche in questo caso, ebbene il Governo ha approvato l'unico progetto che metterà a disposizione milioni e diversi milioni di euro per le zone interne esattamente in questa zona, tu, solo in questa zona, in tutta l'Ambruzzo. Verranno anche in un'altra zona a seguire, verranno anche, ma il cosiddetto progetto Barca, nome dell'ex ministro Barca, poi grande funzionario dello Stato, e qui che sono queste le risorse disponibili. Noi l'abbiamo preso, quel risultato lo abbiamo deliberato, non abbiamo avuto paura di non andarlo a spiegare anche a Sulmona, perché qui e non altrove, e quindi qui diventa anche la migliore pratica da imitare fuori da questa zona. Per questo vi ringrazio, io credo che l'accia di operazione di questo Consiglio Comunale non sia un rito, sia la più grande e bella cosa che può capitare veramente, la maggioranza e la minoranza, perché oggi voi siete coloro i quali scrivete la nostra comunità nel prossimo 5 anni e attenzarci tra i valutti di posto. Tampi a voi.